Quindi adesso facciamo una intervista a orgoglio, allora qui siete perché sono un'autopresentazione perché non nessuno mi ha detto niente, e ci sono io, gioco a carte scoperte, non mi spiace Loro sono fantastici, bravissimi, sono figli e comunque sono due ragazze, giovelli e figli sicuri Ma noi abbiamo un'autopresentazione, quindi già, bravo, bravo, 1-0, palla al centro e adesso fa tutto, perché si è attento, il tercorto viene male Ci siamo, ci siamo, siamo collegati? Ci siamo, fantastico Allora bene, noi siamo qui di Radio Chaos Italy, siamo la migliore web radio italiana Non è molto carino dirlo qui in mezzo a tanti colleghi, però voglio dire, questa è la pura e sola verità E allora abbiamo concluso la nostra diretta qui al Mazzi di Roma in Via Guidoreni con un'intervista con un personaggio straordinario che risponde al nome di Luca Argentero un attore, un attore straordinario, molto bravo, umile, cosa abbastanza rara del mondo italiano e poi soprattutto è un pezzo di figo da paura, voglio dire lo potete constatare attraverso le foto, attraverso i film che ha fatto adesso uscirà un suo film che si chiama Fratelli Unici insieme a Raoul Bova, un altro personaggio non indifferente è stata una bella giornata qui al Mazzi stanno per iniziare le premiazioni delle web radio perciò adesso vi saluto un'intervista brevissima, strano ma vero per me poche parole, perché adesso andiamo a curiosare all'interno e vedremo che cosa si sta verificando all'interno del Mazzi Vinca è il migliore ovviamente, noi intanto abbiamo già vinto grazie a Luca Argentero ciao a tutti